Le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico per due giorni si aprono svelando la loro bellezza spesso celata e ospitando esposizioni, spettacoli ed eventi per tutti i gusti con l'obiettivo di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni. Conto alla rovescia per la 28esima edizione della festa delle corti a Garlate in programma sabato 7 e domenica 8 settembre. 39 punti di interesse con l'apertura di una nuova corte sarà possibile ammirare lo splendido giardino interno di Villaniecchi mai aperto al pubblico prima d'ora. Tante le novità accanto alle immancabili riconferme come richiestissimi tortelli di Maria, la pigiatura dell'uva, i burattini di fiorinolosa, l'allevamento del bacco da seta, la fattoria degli animali, la corte del dialetto e il mercatino dei libri. Il cortile di Villapozzi ospiterà 18 biciclette da lavoro dell'Associazione Bergamasca Frammenti di Storia. Sarà possibile scoprire come erano allestite le bici, del lattaio, dello spazzacamino, dell'arrotino, del fornaio. Nel cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo non poteva inoltre mancare una corte dedicata al genio toscano con la ricostruzione di cinque macchine da lui progettate e i tableaux vivants dei suoi quadri a cura dell'Associazione Garlatese Tram. Per ripercorrere il gambe di Garlate con il suo lago, in cur del Vignascia, sarà possibile scoprire storie e curiosità di pesca, trasporti e vita a la custre, illustrati nel libro Garlate di qua e di là dal lago, terzo volume della trilogia voluta da Piera De Gradi. Non mancheranno i punti di ristoro, i gruppi folcloristici, l'esibizione artistica e sportiva e tanta musica. E domenica sera il tradizionale spettacolo pirotecnico. Altra novità della ventottesima edizione è la tessera Fedeltà. Sono state selezionate 16 corti nelle quali sarà possibile farsi apporre sull'apposita tessera distribuita all'ingresso della festa un timbro che ne testimonia la visita. Chi completerà la tessera riceverà un biglietto della lotteria per tentare la fortuna e vincere uno dei premi in paglio. Numerose le associazioni e i volontari in campo.